Ciao, siamo Vale e Orri. Oggi vi faccio i panini per hamburger a modo mio. Ingredienti per panini per hamburger. 480 grammi di farina zero, 290 ml di latte intero, 70 grammi di burro, 40 grammi di zucchero sevolato, 8 grammi di sale, 8 grammi di lievito di birra, un uovo e semi di sesamo. Inizio la preparazione dei panini per hamburger. Nel mixer metto la farina, il latte, leggermente tiepido. Metto il sale, il lievito, che ho già stemperato con un pochino di acqua tiepida. Metto lo zucchero, facciamo andare per qualche minuto, la massa della città, e il burro per ultimo, che ho già ammorbidito a temperatura ambiente. Adesso faccio andare il mixer per 8-10 minuti. la massa della città. L'impasto per i panini è pronto, ora lo tolgo. Sono passati 10 minuti del mixer, ora lavoro un po' la pasta, e poi lo mettiamo a lievitare. Mi sporco un po' le mani di farina, solo le mani, perché non dovrebbe più appiccicare. Un bello morbido. Lo mettiamo in una terrina e lo copriamo con la pellicola alimentare. Lo metto in forno spento, con la luce accesa, per due ore. Ci vediamo dopo. Sono passate due ore, la pasta ha lievitato, ora la tolgo dalla terrina. Metto sotto proprio un pochino di farina. Ora gli diamo la forma. I panini li faccio da 100 grammi circa, un etto. Poi li lavoriamo un po' così e li mettiamo sulla teglia, con carta da forma. Non serve farina, non serve nient'altro. ne ho usata solo un po' quando l'ho tolta dalla terrina. Li lasciamo un po' staccati uno dall'altro. Adesso ho l'ultimo. Poi li metto in forno ancora, coperti, con un canovaccio. Sempre il forno spento, con la luce accesa, per un'ora ancora a lievitare. Ci vediamo dopo. È passata ancora un'ora di lievitazione. Ora gli spennello con il rosso dell'uovo e un cucchiaio di latte che avevo tenuto da parte. Sbattiamo un attimino e spennelliamo bene i panini. senza schiacciare troppo, anche da parte. Ho terminato di spennellarli con l'uovo, ora metto i semi di sesamo sopra. Sono pronti. Ora li rimetto in forno spento, con la luce accesa, ancora per 30 minuti. Non coperti. Ci vediamo dopo. È terminata l'ultima mezz'ora. Ora le metto in forno, a 200 gradi, per 10-12 minuti circa. Sempre da tenere sotto controllo. Ci vediamo dopo. Sono passati 12 minuti. Spengo, li tolgo dal forno e li lasciamo raffreddare. Ci vediamo dopo. I panini per hamburger sono pronti. Sono morbidissimi. si alzano, vanno giù e poi si alzano. Vanno giù e poi si alzano. Sinceramente, a me piacciono anche con la Nutella e anche da soli così. Questi sono i panini per hamburger fatti a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciuti i panini per hamburger? Se vi sono piaciuti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!